nei vicoletti della spiaggia grande con nino nino dove ci stai portando ecco una cantina che insospettata veramente ci troviamo qua siamo praticamente una parte più delle più antiche di positano che cos'era questo è fantastico e qua c'è veramente una bella selezione di vini quanti vini ci sono nino in città 3.500 bottiglie 3.500 bottiglie abbiamo tra le etichette più importante vedo anche la tassicaia ogni annata dal 90 al 2019 da Mosignanello dall'87 alla 20 che è arrivata una settimana fa abbiamo solaia, ornellaia qua veramente ci sta il meglio poi vedo pure ben curate sia la collocazione delle bottiglie sia ecco come vedete pure qua la possibilità di degussare poi anche le temperature sono sono monitorate continuamente che è importante la controllata ed è chiusa H24 e ha preso una mente per eventi privati per eventi privati degussazioni di altissimo livello ecco qua pure caia ci abbiamo un po di tutto complimenti veramente